ragazzi è un momento molto difficile, molto difficile è appena uscito il trailer si sta caricando è uscito il trailer di Io prima di te del film io sono in una versione pessima sono scurissima c'è buio ma dovevo farvi questa reazione altre che non l'ho ancora visto mi hanno già taggato 200.000 persone io non l'ho ancora visto perché il trailer voi non vedete sono le 17.07 è uscito 7 minuti fa ok siete pronte? ok bimbe allora mi è già piacere allora fermi tutti andiamo su youtube e vabbè tanto voi l'importante è che vedete meno poi il resto tanto lo siete andate a vedere il trailer alziamo il volume al massimo e parte così c'è Jojo Moyes e tutta l'ambaradan qua della foto della copertina pronte io non sono pronta spero che lo siate voi non aspettate che devo silenziare qua tutto facebook mi stanno taggando in 2000 persone abbandona questa pagina pronte andiamo un trailer per me before you yet se non stai tuned e get ready to learn more about Louisa and Will in this wonderful adaptation of my book Me Before You will be released in cinemas on the 3rd of June this year enjoy e che cosa stai? no 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 what do you mean by that? i can't be from around here why not? this is the kind of place people come to when they're tired of actually living i'm happy here i shouldn't be you have one life it's actually your duty to live it as fully as possible no stay tell me something good when i was little my favourite outfit was my bumblebee tides bumblebee tides black and yellow stripes oh god didn't you ever love anything that much? no è Geshira, no è è un colpo basto Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Non lo so se caricherò questo video Perché mi vergoglio tanto Di essermi messa a piangere così Davanti a una videocamera Però Era veramente la prima volta che vedevo il trailer E quindi non ero preparata Vabbè Penso sia perfetto Chi ha letto il libro converrà con me Se il video vi è piaciuto Si carica questo video E se vi sarà piaciuto Fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate Io vi mando un bacio Grazie a tutti Grazie a tutti